Il capolavoro è un mistero dei aloni sull'origine e quando infatti io come studioso sto verificando una cosa che secondo me dal punto di vista scientifico è abbastanza plausibile perché il pomodoro come lei sa qui nell'ottocento si coltivava sulle colline e questa era una tiana acquitrinosa quindi non era stata modificata. Qui lungo il sarno c'erano tutti i murini e il fatto di avere abbondato nel fare questi murini l'aveva portato a rendere tutta questa tiana pallone. Quindi i borboni iniziarono l'esanamento a partire dal 1850 ma poi non ci riuscirono e il regno d'Italia praticamente completato alla fine del 1800, 1895-1996.